Il docufilm Il sorriso di San Zeno, la vita, gli scritti e i miracoli del Patrono San Zeno è questo l'ultimo lavoro del regista Mauro Quattrina, un'ora e 32 minuti di pellicola per raccontare attraverso le testimonianze, le interpretazioni, le ricostruzioni la grandezza del Santo Patrono di Verona. Un lavoro molto impegnativo perché ha richiesto un anno e mezzo di studio e racconta non la storia di San Zeno ma San Zeno nella storia per cui cambia un po' le prospettive e scopriamo che è un personaggio assolutamente fantastico per quello che ha dato Verona a livello culturale e per quello che ha detto certo con lo spirito dei tempi ed è un personaggio da sfruttare perché è conosciuto in tutta Europa in Francia, in Germania, in Austria, nella ex Jugoslavia, in quei paesi lì è conosciutissimo santo che si è sempre dato da fare per i suoi miracoli famosi contro le alluvioni per esempio poi è invocato anche contro la peste, è invocato per tante cose. San Zeno proveniva dal Nord Africa, venne a Verona nel IV secolo per evangelizzarla. Nei 2013 alcuni studi scientifici hanno attestato l'autenticità delle ossa del Patrono come ha ricordato il Vescovo Zenti, 127esimo successore di San Zeno che ha espresso gratitudine per la realizzazione del film e curiosità nel vederlo nella prima nazionale al K2. San Zeno va conosciuto in tutti quanti i suoi aspetti, nella sua storia, nella sua leggenda anche e comunque la sua capacità di essere incisivo in un periodo difficilissimo con una cultura che frenava la presenza del Vangelo come lui è riuscito attraverso la carità, attraverso la solidarietà a sfondare anche i cuori più induriti. Questo docufilm è importante, ringrazio il regista Quattrina che l'ha voluto, l'ha pensato, l'ha ideato, l'ha costruito insomma l'ha fatto, perché ci permette di avere un ricordo costante rispetto ad una figura che è una figura storica non solo della tradizione cristiana della nostra città che già è molto importante ma che rappresenta una parte importante proprio della storia della nostra città. Per i docufilm, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni e altri sponsor sono state utilizzate 130 maestranze locali e nonostante le difficoltà legate al Covid il progetto è arrivato a conclusione.